Noi di RECCAR ci occupiamo di tutto, dal progetto all'installazione dell'allestimento, dall'omologazione per uso speciale alla consegna del vostro veicolo. Novità 2020, nuovo BOD Vario 3, completamente in alluminio. Il nostro allestimento si adatta ad ogni veicolo commerciale, offre una notevole versatilità. I cassetti offrono un'ottima portata in termini di peso, capienza e praticità. Il banco di lavoro ribaltabile con morsa integrata amplia l'area di lavoro a disposizione. Abbiamo la soluzione idonea per ogni tipo di allestimento. Analizziamo le necessità del cliente e lavoriamo insieme per trovare la migliore soluzione. Esperienza e massima flessibilità, questi sono i nostri punti di forza. Ma RECCAR non è solo l'allestimento di officine mobile. Abbiamo la soluzione idonea per ogni tipo di allestimento. Qui ad esempio abbiamo creato una struttura saliscendi per un pannello a messaggio variabile per la segnalazione stradale. RECCAR dal 1996, esperienza e massima flessibilità, questi sono i nostri punti di forza. Veniteci a trovare, visitate il nostro sito internet, siamo presenti anche su Facebook. Ciao! Grazie a tutti!